amici sportivi buon pomeriggio dallo stadio razio raiti di biancavilla ma in scena biancavilla polisportiva santa maria recupero della sedicesima giornata del girone d'andata si comincia con gli ospiti maglia giallorossa squadra di casa invece in maglia bianca polisportiva in avanti guadagna un calcio d'angolo colpo di testa di gargiulo che da solo impatta la sfera non c'entra però lo specchio della porta polisportiva ancora avanti maio non riesce a centrare lo specchio della porta da pochi centimetri dopo l'ottimo calcio di punizione biancavilla prova a rispondere un diagonale attraversa tutta l'area di rigore minaccioso con il padrone di casa santa paola dalla distanza fuori santa maria in avanti occasione per la santa maria direttore di gara che concede la massima punizione alla polisportiva santa maria andrà domenico maggio parte maggio si lascia ipnotizzare il calcio di rigore attenzione respinta nulla da fare ancora miracolo del portiere si resta sullo 0 a 0 grande occasione per i giallorossi e arriva il doppio fischio del direttore di gara si va allora al riposo sullo 0 a 0 subito biancavilla in avanti grieco che parata sull'iciardello calcio d'angolo contropiede giallorosso ovisacca tu per tu con la rosa il destro dell'ex sudinese pallone che non c'entra lo specchio della porta assedio praticamente dei cilentani ovisacca in contropiede non riesce però a concretizzare non vero e proprio forcing il biancavilla si difende la santa maria attacca pallone dentro colpo di testa di maggio pallone sul fondo arriva il triplice fischio 0 a 0 all'orazio raiti tra biancavilla e polisportiva santa maria